ciao a tutti ragazzi sono sergio adenem bentornati sul mio canale faccio questo video extra scopo divulgativo lo sapete che non faccio video con titoli stranissimi per accogliere views non faccio parte di quella categoria di youtubers quindi faccio questi video a scopo divulgativo per voi prima che cascasse in questi errori che avete visto nel titolo del video allora sono tutto sulla mia destra perché qua dovrebbe comparire lo schermo del telefono ed eccolo qui allora faccio questo video perché mi sono state recapitate due mail nel giro di un mese e mezzo in cui due brand due fabbriche due marchi ecco di orologi sono venute ad offrirmi una partnership su youtube senza spolerarvi niente questo è il contrassegnato ecco le mail questa che emanuele che vedete nel mezzo vi mostra che quella adriusoda 00 chioccia gmail.com che trovate in tutti i miei video è l'email quella dove voi potete contattarmi scrivermi fatete questo emanuele mi ha scritto e io ho risposto a sui dubbi magari mi dovete mi volete chiedere qualcosa io sono sempre attivo e potete scrivermi in qualsiasi momento questi colbi e aj queste due mail che mi sono arrivate la prima di sarà primo settembre l'altra sarà il 23 ottobre partiamo con la del primo settembre per chi non sapesse l'inglese ve la traduco assoluta stante speriamo di riuscirci ciao stiamo scavando il tuo canale youtube hai uno stile incredibile grazie se sei interessato avremmo offrirti una partnership e uno fin qui direbbe va perché no una piccola formazione su di noi slick supply company è una marca di orologi che abbiamo lanciato in novembre 2016 insomma sono questi orologi di moda che hanno anche un bel look sono focalizzati nei dettagli no e qui insomma parla dei suoi orologi puoi vedere il video dei nostri orologi qui non ve lo faccio vedere il loro video perché potrei cascare in copyright semmai vi faccio vedere il sito comunque i nostri orologi sono prezzati a 97 dollari l'uno sono più o meno 75 77 euro al cambio del 29 ottobre che cui ho controllato quindi non è un rolex però sono orologi abbastanza buoni ma quello che vogliamo fare è offrirti il 40 per cento di sconto a me e un coupon dello sconto del 20 per cento da dare ai tuoi viewers cioè in ogni video dovrei mettere questo codice che mi avrebbero dato e voi se siete interessati a questo orologio avete dovuto inserire il codice e comprarli e mi avrebbero dato 20 dollari via paypal che mancò quindi perfetto speriamo che tu sia elogiato di questa opportunità qui è il sito se consigli di questa offerta rispondici e facci sapere e qui dà delle informazioni che potrebbero anche darti una specie di veridicità su questa marca di orologi perché insomma da dei numeri telefono da neanche partita iva no però le informazioni necessarie ce le dà adesso vado a vedere il sito già il fatto che quando vedo il sito non è un sito sicuro perché apro youtube c'è il lucchetto apro google c'è il lucchetto apro facebook c'è il lucchetto apro instagram uguale qua non c'è quindi non è certificato diciamo questo sito qui fa vedere questi orologi però già che se devo spendere 75 euro per un orologio sinceramente che è come un altro ma anche no però andiamo alla seconda mail uno potrebbe dire ci penso perché magari potrebbe dire che ne so magari sì potrebbe starci no insomma sono rimasto un bel po' in dubbio su rispondigli o no fino a quando ho ricevuto la seconda mail quando ho ricevuto la seconda mail ho detto questo matrimonio non sa da fa perché questo colbi ragazzi è la stessa mail cioè è come se la nestlé e l'adidas mi mandassero la stessa mail non ha senso è una truffa ragazzi e ve lo dico perché ci tengo a voi ci tengo la mia interietà la vostra e quindi meglio che faccia questo video a scopo divulgativo ciao stiamo scavando il tuo canale youtube ciao stiamo scavando il tuo canale youtube hai uno stile incredibile hai uno stile incredibile grazie se sei interessato vorremmo offriti una partnership una piccola scheda su di noi una marca che abbiamo lanciato un pa' di mesi fa ad agosto qui di nuovo tutta la eccetera eccetera i nostri prodotti sono prezzati tra 67 e 129 dollari ti offriamo un 50% perché mai non ho risposto prima adesso ho un 50% di sconto e un coupon personalizzato con lo sconto del 20% avrei dovuto fare ogni video e metterci la loro pubblicità dentro e anche qui mi abbia dato 20 dollari via paypal che non ho speriamo che tu sia contento di questa opportunità che ti offriamo il nostro sito è qui facci sapere cosa ne pensi e qua di nuovo ci danno tutte le loro informazioni questo è il lux brand qua vado a vedere il sito non ho mai visto il loro sito lo vado a vedere con voi per la prima volta qui c'è il lucchetto ragazzi qui c'è il lucchetto che poi con tutti gli hacking che ci sono adesso si riescono a scaricare i programmi craccandoli quindi credo che sia una cosa piuttosto fattibile ed ecco qua orologi orologi occhiali e praticamente sono le stesse foto di prima e la cosa che veramente mi infastidisce è che ci sia la stessa mail la stessa mail per due cose diverse la stessa mail per due cose diverse ragazzi e non riesco ad accettarlo e per di più la stessa somma che mi offrono lo stesso 20% sempre via paypal però se comprare il suo prodotto va dal 40% al 50% vi terrò aggiornati sicuramente in un mio video futuro quindi state connessi se dovete ricevere una terza mail il mio consiglio che vi do sicuramente l'avrete ricevuto anche voi è non rispondete a queste mail lo dico per voi per me potete fare quel che vi pare non è che vivo la vostra vita però vi consiglio ragazzi col cuore di non rispondere a queste mail non accettare qualsiasi offerta e che poi poi potrebbero essere vostre ci potreste rimettere il canale se non altro io chiudo qua il video vi ringrazio spero vi sia servito vi sia stato d'aiuto perché meglio preavvisarle le cose che subirle subito e ragazzi vi ringrazio lasciate un like iscrivetevi se volete più che altro più che like e iscriversi condividere il video condividere il video perché ci tengo che questo messaggio vada e quindi niente ciao a tutti ragazzi grazie per la visione e se siete stati connessi se siete già iscritti altrimenti iscrivetevi ciao a tutti